Credo che gli italiani come me sono tre anni che sentono parlare di riforma elettorale, è assolutamente necessaria. Credo che faccia anche bene Renzi a tenere aperta la discussione, a non rinchiudersi su una proposta secca perché l'obiettivo comunque è superare il porcellum, l'obiettivo come è evidente anche dalla sentenza della Corte Costituzionale e l'obiettivo è anche di ridare il potere ai cittadini, io credo di scegliersi deputati, io sono favorevole alle preferenze per la regione toscana che rientrodurremo e anche a livello nazionale, oppure alla scelta di giocarsi la partita dentro piccoli collegi in modo alternativo tra gli schieramenti e poi bisogna dare garanzie che qualcuno vinca e che dopo chi ha vinto si possa mettere al lavoro se non il giorno stesso almeno il giorno dopo, diciamo. E poi bisogna dare garanzie nel Paese al mantenimento del bipolarismo. Questi sono i principi, è giusto su questi principi essere flessibili perché le forze politiche possano trovare rapidamente un accordo. Mi pare che finora si è fatto un giochino a piluccare la pigna, insomma, uno dice una cosa e l'altro pirucca l'uva, quell'altro dice un'altra e allora uno la gira dall'altra parte. Speriamo che questa sia la volta buona perché i cittadini sono arrabbiati su questi termini, insomma, si aspettano delle risposte.